Questa non è una canzone, questo è un inno eterno. Se ti tagliassero a pezzetti, fa parte del decimo album studio di Fabrizio De Andrè, conosciuto ai più come L'Indiano, disco che è spesso considerato una sorta di concept sviluppato sui parallelismi tra il popolo sardo e gli indiani d'America. Per capire però la genesi dell'album e quindi del brano del quale parleremo, è necessario fornire un po' di contesto. Nella seconda metà degli anni Settanta, mentre Dorighezzi è incinta, i due decidono di trasferirsi in Sardegna, in particolare in una tenuta di campagna che si trova vicino al paese di Tempio Pausania, in Gallura. Nel 1977 nacque Luisa Vittoria, detta Luvi, e due anni dopo, a fine agosto del 79, Fabrizio De Andrè e Dorighezzi furono sequestrati dall'anonima sarda. Rimasero prigionieri nelle montagne per circa quattro mesi, fino a quando non fu effettivamente pagato il riscatto. Fatto interessante è l'atteggiamento di Fabrizio De Andrè nei confronti dei sequestratori. Come nel suo spirito, più volte rappresentato in tanti brani, infatti ha un atteggiamento di comprensione, nei confronti di quelli che nella sua visione del mondo sono comunque dei derelitti sociali, quindi non per scelta e di conseguenza delle vittime. E manterrà questo atteggiamento appunto anche quando la cosa lo riguarderà personalmente e in particolare descriverà una prigionia nella quale anzi spesso gli sono state accordate alcune richieste oppure semplicemente due potevano essere slegati. Celebri anche le sue parole nei confronti dei carcerieri, noi ne siamo venuti fuori mentre loro non potranno farlo mai. Manterrà questa linea anche in sede di processo, parlando di perdono per i suoi carcerieri, ma non per i mandanti del sequestro. Mandanti che erano di estrazione agiata, in particolare un veterinario toscano e un assessore del PCI, e infatti contro di loro si presenteranno in tribunale, mentre contro i carcerieri non si costituiranno né lui né il padre né nemmeno parte civile. Questa breve introduzione è fondamentale per comprendere l'origine dell'intero album. Il rapporto con la terra sarda in De Andrè era già forte, non a caso ci si era trasferito, e l'esperienza del sequestro la consolida ulteriormente. Diventando ispirazione per tanti versi e tanti pensieri, spesso scritte a quattro mani con Bubola, con il quale aveva già collaborato in Rimini l'album precedente, e che fluiranno poi proprio in questo album. Il 21 luglio del 1981 infatti viene pubblicato l'album Fabrizio De Andrè, che come abbiamo detto viene subito riconosciuto e viene anche chiamato l'album dell'indiano o solo l'indiano proprio per l'immagine in copertina. Una nota sui testi. Un accordo tra lui e Massimo Bubola prevedeva che tutti i testi dell'album avrebbero avuto la doppia firma. Questo a prescindere da chi avesse fatto cosa. Ed essendo il contributo dei due autori praticamente impossibile da identificare, d'ora in avanti quando analizzerò del testo, magari parlerò di De Andrè ma sappiate che è stato scritto insieme, oppure a volte parlerò al plurale, non lo so. Come dicevamo il rapporto con la terra sarda e spesso il confronto con le tribù degli indiani d'America è un po' il filo conduttore di tutto l'album e l'esperienza del sequestro la troviamo poi in maniera plateale in canzoni come Hotel Supramonte, che spero sia conosciuta i più. Basta guardare comunque la lista delle tracce per rendersi conto di che album stiamo parlando, da quello che non ho a Fiume Sand Creek, Hotel Supramonte, Franziska e la canzone sulla quale ci concentriamo oggi, cioè se ti tagliassero a pezzetti. Proprio per sottolineare ulteriormente il rapporto tra Fabrizio De Andrè e la Sardegna ho deciso di adottare come sfondo questo murales, che è uno tra i tanti bellissimi, che ci sono nella cittadina di Orgosolo, che sono andato a visitare proprio l'anno scorso. Andiamo quindi a vedere il testo. Premessa, il brano fu censurato. L'odiosa censura impose, infatti, la sostituzione di due parole. Ma proprio quei due dettagli, secondo me, chiariscono da una parte la tematica principale e reale della canzone, dall'altra la natura proprio anche del pensiero dell'autore o degli autori. Per questo motivo noi analizzeremo l'originale. Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle, e la luna tesserebbe i capelli e il viso, e il polline di un dio, di un dio il sorriso. Il brano inizia in maniera scioccante, con questo se ti tagliassero a pezzetti, che ovviamente la prima cosa che noi pensiamo è a una persona. Quindi c'è questa immagine molto violenta, e addirittura a pezzetti, cioè come se si dematerializzasse. Ma subito dice che non servirebbe comunque a nulla, perché sarebbe il vento, l'elemento naturale, a raccogliere questi pezzettini. E sempre rimanendo nel tema naturale, il regno dei ragni cucirebbe la pelle. Sarebbe poi la luna a occuparsi di tessere i capelli e il viso. Il polline di un dio, di un dio il sorriso. E qua veniamo alla prima cosa censurata. Fu infatti imposto di sostituire un dio con dio, quindi questo dio, non altri ipotetici. Ma è ovvio che nell'intenzione dell'autore, questo dio, è intendere un'entità superiore a tutti noi, e non quell'entità. Quindi non ha una connotazione riconducibile alla religiosità, come dire, formale. E quindi questa immagine, che ancora non sappiamo e possiamo immaginare fino a qui, addirittura che fosse un uomo, una donna, insomma, un essere, risulta quasi condannata alla vita, all'esistenza. E quindi per quanto ci si possa impegnare a distruggerla, a farla a pezzettini, sarebbe proprio l'unione della natura e la volontà di un essere superiore a ricostituirle e restituirle la forma e quindi la vita. Ti ho trovata lungo il fiume, che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra, di miele rosso rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. E racconta di questo primo incontro. E guardate l'ambientazione che si crea, come viene descritto, tutti elementi naturali è quasi un'ambientazione fiabesca. Visto che di qualsiasi cosa stia parlando, si è deciso di optare per un'allegoria che mettesse al centro una persona, la incontra lungo il fiume che suona una foglia di fiore. E le parole che sono leggere, ma sono parole d'amore, non ha bisogno di specificare che questa cosa ovviamente lo rapisce completamente. Il magnetismo che questa figura esercita su di lui è evidente al punto che salta direttamente al ho assaggiato le tue labbra, di miele rosso rosso. Ci troviamo indubbiamente di fronte a una frase che potrebbe trovare diverse interpretazioni. Alcuni ne danno addirittura connotazione politica. Io rifiuto questa visione perché mi sembra un po' forzata e tra l'altro, conoscendo anche un po' la vita privata e il rapporto con certi ambienti politici di De André, mi viene difficile credere che abbia scelto quel colore per creare un'associazione politica. Credo più bianalmente che il miele indicasse una dolcezza che ha una funzione attrattiva e il rosso, ripetuto due volte, indica proprio la grande passione, la carnalità di questa cosa. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Ho trovato interessante un'interpretazione di questa frase, che potrebbe essere una parafrasi di un motto marxista. Da ognuno secondo le sue capacità a ognuno secondo le sue necessità. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io sono attore di chitarra, io sono attore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Di queste frasi ho sentito e ho letto diverse interpretazioni. Le ho trovate praticamente tutte scricchiolanti, quindi vi dico come la vedo io. Ad esempio non credo che la rosa gialla qui abbia valore simbolico della gelosia, come vorrebbe il codice colori delle rose. E insieme a rosa di rame probabilmente sta a indicare la fusione dei due colori, oppure a indicare il fatto che un una rosa metallica, quindi di rame, ci sembra un qualcosa di strano in mezzo alle altre rose. Quindi probabilmente anche solo questo. Però se qualcuno ha idee migliori, ovviamente insomma lo dica nei commenti perché così impariamo tutti qualcosa di nuovo. Mai ballato così a lungo, semplicemente sta a indicare un qualcosa che è inedito. Quindi sta raccontando di una passione che è stata così istintiva e istantanea quanto travolgente. Lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno, mi sembra continuare a sottolineare questo concetto. Quindi perdendo la cognizione del tempo del giorno e della notte. Io sono attore di chitarra, io sono attore di mandolino. Ho letto interpretazioni che rimanderebbero al suonatore Jones. Non lo so, mi sembra un po' scricchiolante, però chi lo sa. Mi sembra che descriva semplicemente se stesso. Alla fine siamo caduti sopra il fieno non fa nient'altro che confermare che questa passione travolgente si è abbandonata in maniera naturale e mantenendo il contesto naturalistico ovviamente succede una scena di campagna e succede sopra il fieno. Qui c'è una parte piuttosto controversa e anche molto interessante. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. Secondo me qua, superando il concetto fisico che fino adesso era ambivalente, credo che l'interpretazione possa essere questa, cioè un po' nella casualità delle cose che avvengono persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Perché probabilmente non c'era neanche magari la maturità di capire quella cosa. Oppure semplicemente come tutte le cose che a volte si perdono e non si sa perché, per motivi che sembravano grandi e poi si dimenticano. Oppure per cose che effettivamente erano piccole ma che comunque ci si divide, così come nell'amore, nell'amicizia e in qualsiasi altra cosa della vita. Certo si potrebbe anche interpretare in un altro modo. Dato che noi non sappiamo a quando si riferisce questo contatto, e a questo punto potremmo anche dire già chiaramente che stiamo parlando di un contratto con l'idea di libertà, una libertà anarchica, quindi più filosofica che politica. Quindi può essere che stia parlando di un passato dove c'è stato questo incontro e di un momento successivo nel quale magari ci si è un po' allontanati. Mi vengono in mente anche possibili altre interpretazioni mentre lo sto dicendo. Mi allontano dall'idea di anarchia per chiudere un contratto discografico? Può essere. E quindi l'ho persa un po', ma in cambio di tanto. Il successo mi ha obbligato in qualche maniera, anche inconsapevole, a perderla, quindi per poco o per molto. Come vedete, sono parole molto aperte. Anche il presa sul serio, presa per gioco, secondo me sta principalmente per creare il gioco di parole e assonanze, ma mi sembra che stia confermando tutte le letture possibili della prima frase. E in questo incontro, comunque in questo rapporto, non c'è mai stato niente da dire o da pensare come a dire, a tornare un po' a quell'attrazione naturale di prima, di cui si parlava prima. La fortuna, vedete la fortuna come la libertà, o come la signorina anarchia, vedremo poi, richiama comunque delle immagini dolci, belle, rilassanti, che ti catturano. L'umanizzazione viene richiamata poi nel finale con spettinata da tutti i venti della sera. Una spettinatura provocata dal vento, cosa c'è di più naturale di tutto questo? Tra l'altro lui lo specifica da tutti i venti della sera. Quindi è chiaro che questa è sempre una visione quasi onirica ed evidentemente metaforica. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina anarchia. Arriviamo alla parte di testo dell'altra censura, dove anarchia è stata sostituita nelle versioni studio, quindi quelle ufficiali, con fantasia. Così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. Parla quindi al presente, lasciando intendere che tra il momento nel quale lui sta scrivendo adesso e quello che diceva prima, c'è una pausa, c'è un'interruzione, della quale comunque non si cruccia tanto. E infatti dice, aspetterò domani, rimanderò a domani un'eventuale nostalgia. Nostalgia di chi? Nostalgia di te, che se ancora non si è capito sei la libertà, sei l'anarchia. Ecco perché parlavo di una dimensione filosofica dell'anarchia collegata alla libertà. E evidentemente, almeno a mio avviso parlando di sé, la ricorda come un qualcosa che è così preziosa, appunto come il vino elemento caro a lui, con il quale non posso che trovarmi d'accordo, è così gratis come la tristezza. Chi conosce la discografia e si è soffermato sui testi di De Andrè sa che, oltre ad aver scritto e cantato un miliardo di volte la parola dolore, c'è questa idea di tristezza malinconica che avvolge un po' tutto. E quindi è gratis perché è inevitabile, ne fa parte, ne è intriso. E anche su questo come dargli torto. Però tornando alla visione filosofica, quindi quando ripensa a quell'incontro, a quella suggestione, a come è stato il tutto e quindi quando ripensa la propria idea di libertà e di anarchia, non può che vederla come una nuvola di dubbi e di bellezza. Certamente bella come ce l'ha descritta, ma anche di dubbi, perché di qualsiasi pensiero si stia parlando, è logico che l'uomo intelligente si ponga dei dubbi, soprattutto quando si parla di cose che dovrebbero organizzare l'uomo e la società poi. Che è un pelino diverso ad aderire completamente a un manifesto scritto da qualcuno da una parte o dall'altra e farseli piacere per forza. Ma giusto un pelino. Veniamo a una delle parti più interessanti ed enigmatiche, se vogliamo, del testo, prima della conclusione. Ti ho incrociata alla stazione, e quindi riavviene questo incontro, che inseguivi il tuo profumo. Ora io non è che voglio dire niente, ma se noi ci immaginiamo, l'idea di questa che abbiamo voluto definire donna, più o meno tutti la interpretano così. Che insegue il suo profumo. C'è una roba bellissima, bellissima già come figura, oltre che poi come significato. Presa in trappola da un taillier grigio fumo. E quindi proviamo a immaginare. Come ce la immaginiamo veramente? Questa donna che insegue il proprio profumo. È l'idea del cane che si avvolge su se stesso per cercare la propria coda. E nel frattempo è, non è vestita bene con il taillier, non è elegante nel taillier, non è bella nel taillier, no. È presa in trappola. Quindi se avevamo dei dubbi su che significato dare al taillier, che lui intende precisare è grigio fumo, dubbi non ne dovremmo avere più. E qualora non fosse chiaro, i giornali in una mano e nell'altra il tuo destino. Camminavi fianco a fianco al tuo assassino. È questa roba che fa veramente accapponare la pelle. Io credo che tutto questo, sostanzialmente, non stia facendo altro che rappresentare quanto parole come libertà, anarchia, vengano un po' prese, prese da tutti, che ne hanno bisogno nelle loro narrative politiche. E infatti sono tutti d'accordo su una cosa, sul condire dei discorsi politici, sulla retorica del buttarci sempre di mezzo la libertà. Da cosa è rappresentata questa condizione dal fatto che la libertà, l'anarchia, impersonificate, sono disorientate, un po' innamorate di se stesse e quindi non si rendono neanche conto che nel frattempo qualcuno gli ha messo addosso un taillier grigio fumo, le ha rivestite di borghesia, le ha politicizzate, le sta costringendo in una condizione che non gli appartiene perché la condizione è stata descritta in maniera grandiosa come una condizione di libertà. Vedete come il lago, il vento, la luna, i ragni, il fiume vengono sostituiti da questo taillier grigio fumo, da queste immagini di lei che si annoda su se stessa, schiava del proprio profumo e quindi fondamentalmente confusa. Con i giornali che ovviamente qua stanno a rafforzare quest'idea di potere, che ovviamente per come viene inteso qui va a braccetto con il potere della stampa e chiaramente è proprio in antitesi con la libertà della quale si parlava all'inizio. E nell'altra il tuo destino, quindi senza saperlo stavi andando in quella direzione, perché stavi camminando fianco a fianco al tuo assassino. Cioè l'idea nella sua purezza che muore quando viene presa dal potere, quando viene sfruttata, manipolata, e in questo caso rappresentato bellissimo da questa cosa del costretta dentro un vestito, oppure associata a un potere che è quello dei giornali, e in questo modo muore, perché l'idea stessa muore, ma niente paura, perché anche così, anche se ti tagliassero a pezzetti, per quanto possano impegnarsi, per quanto l'uomo sia bravissimo a costruire trappole per se stesso, limiti alla propria libertà, il vento li raccoglierebbe, il regno dei ragni cucirebbe la pelle, la luna, la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di un dio, di un dio il sorriso. Non può essere casuale il fatto che il brano inizia e finisce nello stesso modo, e che di mezzo a questa ripetizione ci sia il racconto che si muove su più piani temporali. Sembra rinforzare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quest'idea di circolarità, quest'idea di impossibilità, quest'idea che sì, l'hai ammazzata, ma quella ritorna, perché un'idea è più forte di una bandiera, è più forte di un muro, è più forte di un nome, è più forte di un partito politico, è più forte di una faccia, di una persona. E troverà sempre qualcuno, riannodando il testo, troveremo sempre qualcuno che ti andrà a trovare, che ti scoverà, che ti troverà per caso, che si innamorerà, che si farà baciare dalle tue labbra rosse rosse e rinizieremo da capo. Una nota interessante, sulla parte della stazione, Bubola ci dice che questi versi erano riferiti proprio alla strage di Bologna. E al di là delle varie interpretazioni più semplici, ma no, sta parlando dell'amore perduto, eccetera, eccetera, è lo stesso D'Andrea che ci dice, si tratta di un tentativo allegorico di uccisione della libertà, che non riesce alle persone che assaggiano la libertà, è poi difficile rimettere il calcagno della dittatura sul collo. E lo disse presentando il brano durante il tour del 1991. Da ciò che disse in un'altra occasione ho estrapolato questa parte. Aspetterò domani, dopodomani e magari cent'anni ancora, finché la signora libertà e la signorina anarchia verranno considerate dalla maggioranza dei miei simili come la migliore forma possibile di convivenza civile. Non dimenticando che in Europa, ancora verso la metà del Settecento, le istituzioni repubblicane erano considerate utopia. Ho voluto portare questo testo. E a ben vedere di motivi ne avevo diversi. Innanzitutto perché è una canzone bellissima, e questo è il più banale di tutti. Perché dovrebbe farci avere una visione un pochino più ampia anche del tempo, dello spazio, dell'evoluzione sociale, quindi del perché, anche se qualcuno vuole far credere che certe idee sono fuori moda, questa cosa è del tutto insensata. Di come la filosofia e l'etica personale dovrebbero guidare le nostre azioni giorno per giorno. Ma poi l'ho voluta portare per un altro motivo. Perché questo genere di testo che si presta a tante interpretazioni, alcune che rimangono sul vago, altre che vanno nel dettaglio, andiamo a vedere la singola parola, sono importanti e vanno mantenuti vivi. E benché ci sia tutto un tentativo di far sembrare ciò che è datato come obsoleto, o peggio ancora, inutile, è proprio adesso che con più forza dovremmo soffermarci sul valore di queste cose. Perché alla fine, stringi stringi, il punto non è, ah, ho avuto ragione, ho interpretato bene, ho interpretato male. Il punto è che l'arte, nel suo stato più elevato, porta dubbi, porta pensiero, porta occasioni di confronto. E se smettiamo di mantenerla viva, allora consegniamo il mondo a quelli che ci vogliono far credere che sesso e samba sia una canzone.